Siamo con Gioppe Peschiera, un giovane ingegnere elettronico messinese ormai traventato a Milano da molti anni e ci presenterà adesso per noi Vemoso, un sistema, un'applicazione informatica che aiuterà a interfacciare gli utenti con le macchine di distribuzione di alimenti e bevande che ormai tutti noi ogni giorno quotidianamente sperimentiamo e utilizziamo. Vemoso è l'acronimo di Vending Mobile Solution, ha l'ambizione il progetto di cambiare il modo di interagire fra l'utente finale e i distributori automatici di bevande, di caffè, di prodotti in generale. Il sistema è basato sull'interazione grazie a smartphone di ultima generazione e tablet con quelli che sono i distributori automatici presenti praticamente ovunque e Vemoso si prefigge lo scopo di andare a livello mondiale a far sì che gli utenti in qualunque parte del mondo si trovino possono tramite un unico strumento senza avere la necessità di avere monetine, chiavette o smart card poter scegliere ed erogare i propri loro prodotti preferiti su qualunque distributore sia presente sulla faccia teleper. Come l'utente in maniera concreta si interfaccerà con il sistema? L'utente si interfaccia con il sistema come dicevo con il suo smartphone, con il suo tablet trovandosi davanti al distributore automatico ma invece di inserire la chiavetta, di inserire la moletina come fino ad oggi ho fatto lancerà un'applicazione che funziona su tutti i cellulari di ultima generazione e l'applicazione stessa individuerà grazie alla posizione quella che è il distributore che l'utente si trova davanti andando a visualizzare sul display del cellulare quelli che sono i prodotti che possono essere erogati. L'utente ha a disposizione un credito che è un credito che richiederà tramite la sua carta di credito tramite il suo account of paypal e avrà l'opportunità di essere sicuro sia perché il sistema si appoggia alla privacy gestita da facebook sia perché il sistema Vemoso si appoggia sul circuito di carte di credito altamente sicuro quale può essere paypal e tutte le carte di credito fino ad oggi conosciute che interagiscono con il sistema principe per quanto riguarda a livello mondiale le transazioni online permetterà l'acquisto di piccoli credit 5 10 o 20 euro che possono essere ricaricate per profilo utente sull'interfaccia di Vemoso e derogare qualunque prodotto in quei distributori che agganciano il sistema Vemoso. Come inizia Vemoso? Come è partito il progetto? Il progetto è nato da una mia idea che mi trovavo nella metropolitana di Milano avevo voglia di prendere uno snack e non avevo con me né monetine né chiavette né niente che potessero permettermi l'erogazione di un prodotto. Ho visto che attorno a me chiunque praticamente possedeva un cellulare smartphone che sia e visto che ormai la connessione a internet di tutti noi è costante ho pensato che forse era il caso di utilizzare il cellulare come forma di pagamento ma non necessariamente gli ultimi cellulari con le nuove tecnologie che si stanno facendo quali NFC o altre ma semplicemente grazie alla possibilità di loggarsi con quello che attualmente è la massima espressione a livello di rete di riconoscimento degli utenti ovvero i social network ovvero Facebook. In qualche modo Vemoso si lega a Messina al di là della sua natalità e anche un'esperienza concreta? Certamente. Vemoso come sperimentazione nasce a Messina grazie anche alla collaborazione con Nicola Costa e Kiko Vending che ha messo a disposizione i primi distributori sul quale abbiamo realizzato i primi prototipi e da lì si è capito le potenzialità enormi del sistema. Bene. Quando adesso di fronte alla macchina del caffè riuscirò a comprare il mio primo caffè con Vemoso? Già oggi a Messina ci sono dei punti in cui Vemoso è attivo basta ricercare i distributori che hanno il logo Vemoso direttamente stampato nella cover del distributore automatico. Su Messina ci sono già diversi punti attivi contiamo entro l'estate di aumentare in maniera incredibile il numero di distributori e stanno partendo anche le sperimentazioni in altre città. Quindi mi auguro che quanto prima ci siano migliaia di distributori e milioni di utenti in Italia e non solo a utilizzare questo sistema. Invito tutti coloro che vogliono provare il sistema a collegarsi sulla pagina www.vemoso.com da lì tramite il proprio profilo facebook iscriversi e vi sarà una mappa aggiornata dei punti a voi vicini per poter usufruire di questo servizio o quantomeno di provarlo e di iniziare a entrare in contatto con un nuovo mondo.